Guarda Ersiglio Vericelli, partiti. Allo steccato South Park all'esterno Nashuan Voice, ma soprattutto Belcab e Invito a Sorpresa. Invito a Sorpresa va su Nashuan Voice e lo supera avendo all'esterno Puck di Breme. Quarto largo è Belcab in coda e corda South Park. Branca guarda Arras che muove al suo esterno con Puck di Breme che deve accompagnare. Invito a Sorpresa, terzo in corda e Carletto Fiocchi con Nashuan Voice. Belcab si copre di fuori, in coda in corda South Park. Non accade granché in questa parte del percorso. Invito a Sorpresa, Puck di Breme, Nashuan Voice, Belcab, South Park. Quintetto compatto in tre lunghezze quando si approccia la curva. Questa frazione South Park è leggermente richiesto per tenere il ritmo, anzi sfila la frusta Mario Esposito. Si entra addirittura, invito a Sorpresa Puck di Breme. In terza corsia Belcab, dietro il treno Nashuan e in coda cerca il varco South Park. Con invito a Sorpresa, Puck di Breme e Belcab in lotta. Poi Nashuan Voice, invito a prova a scappare da Puck di Breme e Belcab. Che si presenta in mezzo alla pista in anticipo lungo su South Park. Con Belcab che va dall'attacco di Vito. Cambia ritmo Belcab, scatta su invito a Sorpresa e passa. Deve parare al rincorso di South Park. Con Belcab davanti, invito di dentro, di fuori South Park. Belcab è in vantaggio su South Park. Belcab, South Park, invito a Sorpresa. Molto atteso al debutto e un filo deludente, si può dire, oggi sulla scorta di lavori Mattutini di Cetaglia. Appoggiato dalla punta, Belcab. Fa il Belcab Mattutino e batte South Park. Ancora secondo, terzo invito a Sorpresa. 1-5-2 ed è tutto. Giovedì ci eravamo lasciati con Dario Vargiù con quattro interviste per lui. segno che aveva vinto quattro corse e ci rivediamo oggi ancora. Ne moto solo due.